Ci sono le leggi che vanno applicate, non l'ho detto io, ho detto lei, io l'ho richiamato. Cioè, qui si possono invocare, nell'ultima giornata, ah facciamo altre leggi, aumentiamo le pene, facciamo gli ergastoli. Però, voglio dire, la cosa per me sorprendente è che ci sia gente che magari ha due d'aspo e tre d'altra e sono ancora in... buh, non lo so, c'è qualcosa che non funziona, cioè la norma c'è e probabilmente non è concretamente attuata. Io ribadisco che ci vuole una catena che parte dall'educazione, che arriva alle norme e che poi arriva all'applicazione delle norme. In cui poi dopo, non è che potremmo tutti impietro dirci perché qualcuno viene condannato. Io ho parlato dell'aggravante, cioè, la giudizione c'è, sono gli attenuanti e gli aggravanti. Normalmente vengono attuate gli attenuanti, però non voglio entrare in terreni che non sono i miei perché io faccio il sottosegretario dello sport e non il ministro della giustizia. E nemmeno il ministro di istruzione, quindi ciascuno è il suo.